Le critiche sono sempre, intanto sono sempre da città secondo, metto certi limiti che perlomeno hanno un fondamento ragionevole, sono anche benvenuti. Ora questa mi pare per la parte di un pochino prevenuta e poi è generica, ma non voglio entrare in polemica, perché poi il gusto di polemica è un segno anche di vitalità. Noi riteniamo di fare un lavoro ben fatto, riteniamo che qualche risultato si cominci già a vedere, si possa vedere anche di più in futuro. Poi se qualcuno comincia a strada migliore, ce le indichi, criticare è facile e fare è molto più difficile. Ci sono alcune cose, per esempio di una cura legislativa, della fiscalizzazione, degli investimenti, delle parti del privato di cultura, sono cose che si parla da tanto tempo, ma siccome non ci sono, non insistiamo su questo. Non vedo perché questo non si deve fare, non è la vitalità dell'imposto che stiamo cercando, noi stiamo cercando di fare un lavoro onesto ma determinato in queste aree, in questi campi, eccetera. Poi finalmente ci può essere un disaccordo anche su certi tesi, ci può essere un disaccordo di risulta prevenzione, essere benvenuti contro qualcuno che ha partecipato, che fa parte del gioco normale. Però io credo che le critiche sono benvenute, il prezzo è molto problema e sono anche apprezzabili. Quando però proponono, anche perché si fanno solo una parte distruttiva, è francamente che lascerò molto repressi. Alcune di queste critiche le ho viste anche sotto questo aspetto. In un campo, in un settore, non sono soltanto più le donne, dove la guerra è un ordine del gioco, ma mi debba saperti almeno un interesse. Attraverso i media, i social, i social network, eccetera, noi abbiamo avuto una serie di blogger che abbiamo sollevato, che sono venuti qua, eccetera, poi alla fine dei risultati sono stati circa un milione di contatti, dove Florence, che poi non è tanto per Florence, ma quanto i temi che portano avanti Florence, la policy che propone e che propugna è questo e il fatto che si sia avuto questa diffusione in questi pochi giorni e che prima non c'era, a me sembra già un risultato. Se poi c'è qualcuno che ha delle ricette di oggi, ce la diciamo.